E dalla musica a una delle novità di quest'anno, di questa edizione di Creativi, le associazioni. Sono associazioni che si rivolgono ai giovani facendo alcune attività che poi scopriremo e andremo a stanarle nei triangoli del VCO, punto Verbano, Cusio e anche Ossola. E non solo, perché in questa intervista andremo anche in Senegal. La parola USU! L'associazione Daba Africa è nata a Verbagna nel 2000. Daba è la zappa per lavorare la terra nel nostro linguaggio. Daba Africa ha due scopi. Uno, di fare come scambio culturale tra il Senegal e l'Italia, particolarmente la nostra provincia di Verbagna e il comune intorno. Le prime esperienze che abbiamo fatto con la cooperativa Cladoscopio è un documentario di ENABA che parla dei problemi delle donne in Africa, nel campo sociale. Lavoriamo anche sul campo musicale. Abbiamo un prodotto che abbiamo fatto l'anno scorso con un rapper senegalese che si chiama Billy Joe. Sulla musica siamo andati con dei ragazzi di Verbagna a Dakar. Abbiamo montato un studio video giù. Abbiamo montato un studio audio. e queste collaborazioni sono le grossi attività di Daba Africa, molto sociali e molto attivi sul territorio nazionale e internazionale. I grossi progetti sono il campo agricolo che abbiamo proposto alla provincia di Verbagna e loro l'hanno proposto alla regione Piemonte. Il progetto è già attivo dal 16 ottobre di quest'anno. L'altro progetto è Carapi, sostenuto dal Comune di Verbagna. La cooperazione internazionale che parla dell'AIDS, dei bambini abbandonati in Senegal. E questa è l'attività di Daba Africa. Tanti aiuti ai giovani anche. E fare conoscere la nostra cultura qui a Verbagna per i giovani di questa zona che abbiamo noi molto da far vedere nel campo musicale, nel campo del video, nel campo sociale, nel campo teatrale. Uniamo le due forze e possiamo fare moltissime cose. Per il 2007 abbiamo un progetto, sempre sul territorio nazionale, di una conferenza, diciamo, tra dialoghi dei due popoli di religione musulmano e cristiano. Il mese di maggio a Verbagna. Vorrei ringraziare personalmente, al nome dell'associazione Daba Africa, tutti gli enti pubblici, locali, privati, che hanno aiutato Daba Africa nei suoi progetti. Provincia, Comune, Cooperazione del Caldescopio, Sartoria Etnica, Televicio. E tutte le persone che gratuitamente hanno aiutato Daba Africa fino ad adesso. e non voglio dire tutto perché chi dice tutto dimentica magari uno e non va bene. E ricordatevi sempre la cena etnica che facciamo ogni anno al mese di settembre, conoscere la cucina senegalese, la musica, divertiamoci. È l'occasione di andare in Africa restando a Verbagna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.